Il polo logistico di Mortara è stato inserito nella zona logistica semplificata che il governo sta creando per facilitare il rilancio del porto di Genova, azzoppato nei suoi collegamenti a terra dal crollo del ponte Morandi. Un ordine del giorno, firmato dai deputati leghisti Lucchini e Maggioni e approvato dalla Camera, mette fine alle polemiche seguite dopo la prima stesura del decreto, in cui la struttura lomellina non compariva fra quelle beneficiarie del provvedimento. La zona logistica semplificata è una formula giuridica ancora in fase di formazione, ma comprenderà sicuramente grandi vantaggi. Univa agevolata al 3% e più in generale procedure semplificate per le imprese e accelerazioni negli adempimenti. Inizialmente si era pensato di attuare le agevolazioni soltanto per alcuni cosiddetti retroporti della Liguria, della provincia di Alessandria, dell'Emilia e per quello di Melzo. Con l'ultimo dibattito sul decreto Genova sono stati invece aggiunti anche i poli logistici di Novara, Torino, Orbassano e appunto Mortara. Il polo logistico di Mortara, hanno commentato Maggioni e Lucchini, ha tutte le carte in regola per essere inserito in questo elenco. È un settore di interscambio modale di circa 80.000 metri quadri, con tre binari di carico e scarico, ed è storicamente collegato al porto di Genova sin dall'apertura del 2009. Prendiamo dunque atto con soddisfazione che il Governo, accogliendo un nostro apposito ordine del giorno al decreto Genova, sia impegnato positivamente in questa direzione.